Ah, quindi credevi di essere al sicuro da me? Beh, mi dispiace dirtelo, amico, ma sei un po' alle strette. Non questa volta, Joker. Preparati ad essere stretto dalle braccia della giustizia. Cosa... che stai facendo? Oh, sto solo pulendo il parco di Gotham dai rifiuti. Questo posto può diventare davvero sporco. Già, così... così sembrerebbe. Ma cosa cerchi di ottenere, Joker? Fammi indovinare, è solo un trucco per piazzare bombe in giro per il parco o nascondere piccole schegge di vetro nell'erba. Vetro in erba, diresti tu. No, no, sto solo pulendo. Stai solo pulendo? Cos'è? Un modo per avere uno sconto di pena? Potresti pensarlo, ma no. No, io lo sto facendo e basta. Per il gusto di farlo. Sì, sai, lo trovo... Lo trovo molto appagante. È davvero terapeutico. Capisci? Mi fa sentire come se stessi facendo la mia parte. Che intendi con fare la tua parte? Hai ucciso milioni di... Ma che vuoi farci? Sono il Joker, baby. Nel frattempo, da qualche altra parte a Gotham... Danazione, enigmista! Vuoi farlo o no? Spacca tutto, spacca tutto! Sì, così, spacca tutto! Oh, se non è il terribile duo. Spero siate pronti per essere pestati. Oh, olà, mio amico. Saremo da te in un attimo. Devo solo tenere d'occhio il mio amichetto qui. Fammi indovinare, vi state scaldando per un lavoro, eh? Immagino di non aver mai avuto occasione di parlarne con te, Batman, ma in realtà lavoro come personal trainer. Tu che cosa? È il mio giorno libero. È il mio giorno libero. Io non riesco a capire. Non sapevo nemmeno che voi altre aveste dei giorni liberi. Vi siete forse messi d'accordo? Sì, certo. Certo. Abbiamo una chat di gruppo. Va bene, quindi volete farmi credere che voi due siete qui solo per fare cosa? Allenamento ricreativo? Esatto. Batman, non so cosa ti aspettassi. Non so nemmeno come ci hai trovati. Sei entrato in palestra a caso per cercare guai. Beh, sapete, sfortunatamente per me il crimine non si prende mai un giorno libero. Beh, voglio dire, chiaramente ti sbaglio. Bene, d'accordo. Se voi altri non avete intenzione di prenderla seriamente, allora me ne andrò. Divertitevi a fare qualunque cosa stiate facendo. Beh, grazie per essere passato, amico. Oh, sono un simpaticone. Nel frattempo, da qualche altra... altra parte a Gotham, suppongo. Che giornata genita che abbiamo oggi? Fermo, Mr. Freeze. Dimmi che non stai facendo qualcosa di totalmente diverso da quello che faresti di solito. Beh, in effetti, Batman, oggi è il mio giorno libero, quindi ho preso... Sai cosa, affanculo, mi arrendo. Che cosa? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Senti, per qualche ragione avete deciso tutti quanti che oggi è il vostro giorno libero, sai, senza dirmelo, ovviamente. Perché sei così infuriato, Batman? Non ho fatto altro che prendermi un gelato. Beh, scusami se sono confuso. Nessuno di voi ha pensato di mettere una felpa ai dei jeans dovevate per forza indossare i vostri abiti da super cattivi. Se mi togliessi la tuta morirei. Ah, sì? Beh, voglio dire, e mangi del gelato? Già molto fantasioso. Oh, andiamo. Davvero fuori dagli schemi, Freeze? Eh, dai, Batman, perché devi essere così cattivo? Beh, perché sembra che io sia l'unico a prendere la cosa seriamente, cazzo. Ora me ne andrò a casa e farò qualcos'altro, qualcosa di molto più figo di ciò che state facendo voi. Sai, Batman, ho l'impressione che tu sia solo arrabbiato perché chiunque altro ha diverse cose da fare, mentre tu hai solo questo. Fottiti, buffo! Fottiti, buffo! Fottiti, buffo! Grazie a tutti.